Lo sapete che negli allevamenti di suini in Italia gli animali vengono mutilati senza anestesia? Prendono delle speciali tenaglie e gli spaccano i denti, prendono uno strumento a caldo e tagliano le code e, attenzione bene, fanno addirittura la castrazione senza anestesia. Fino a 7 giorni di vita, incredibilmente, tutto questo è legale. Gli animali ovviamente soffrono tantissimo e continuano a soffrire per ben 15 giorni. In molti paesi del nord Europa hanno già reso questa pratica illegale, e nessuno la fa più. In Italia purtroppo non ci siamo ancora dati una regola e ancora tutte queste pratiche vengono portate avanti. Firmiamo questa petizione affinché tutto questo finisca, sia reso illegale e soprattutto non venga più fatto. Mi raccomando.